Buongiorno, buon pomeriggio, stiamo adesso in Italia e chiederemo a queste ragazze alcune domande riguardo alla nuova elezione del Papa. C'è qualcosa in particolare che vi colpisce riguardo alla nuova elezione del Papa? Cosa è semplice alla fine, perché vedo che è molto vicino al popolo, quindi non sta in distanza. Non si parte, ma proprio si mette a confronto e parla col popolo. Quale pensate sia il ruolo politico nel mondo oggi del Papa? Penso che possa avere un potere, diciamo, diverso dalla politica, che però possa essere lo stesso importante per noi, perché comunque vale molto per l'Italia, è una cosa che abbiamo solo noi, il Papa. Un'ultima domanda, il Papa è Gesuita? Secondo voi, può avere qualche problema, qualche differenza che sia Gesuita il Papa? No, perché alla fine essere cristiani non vuol dire che devi per forza essere una cosa unica. Puoi essere Gesuita quello che è, basta che credi in Dio. Non è un problema, perché l'importante è che siamo tutti cristiani, quindi non è meglio se siamo Gesuiti o un altro tipo. Puoi chiedere se siete praticati cattolici? Chiede se siete praticati cattolici? Secondo me l'importante non è praticare, è credere in un Dio, ma anche per me. L'importante non è praticare, ma è credere in Dio e credere in Dio. Grazie molto, grazie molto, grazie molto, grazie a voi.